Buonasera, buonasera, due volte sai perché? Da doppiare cose buone, certe volte meglio è Il mattino corre in bocca, o c'è ora di mangiare, pomeriggio fai merenda e la sera arriverà Buonasera, buonasera, due volte sai perché? Da doppiare cose buone, certe volte meglio è Buonasera, buonasera, due volte sai perché? Da doppiare cose buone, certe volte meglio è